A Pescara Davide Cassani per rappresentare il suo libro Ho voluto la bicicletta. Insomma Davide, hai voluto la bicicletta e adesso? E adesso pedalo, anzi pedalo ancora perché alla fine la bicicletta, il ciclismo è stata una passione che mi è nata quando ero un bambino, quando avevo sette anni e non si è mai affievolita. C'è sempre questo fuoco che ho dentro di me che mi ha dato la possibilità di amare il ciclismo e di continuare ad amarlo perché per me la bicicletta, per me il ciclismo è qualcosa che mi ha dato e continuo a darmi delle sensazioni straordinarie. Ci hai raccontato sul Quotidiano Il Centro proprio oggi che questa è un'idea nata in aereo nel viaggio di ritorno da Tokyo dopo qualche delusione di troppo. Sapevo che la mia avventura in federazione stava per giungere al termine ed era un momento così di delusione, di riflessione e tante volte sono proprio quei momenti che riesci ad estranearti, a pensare a quello che è stato, a pensare anche al presente e dal momento che da qualche anno a me piace anche scrivere e quindi mettere un po' in pratica quello che mi frulli in testa. Ho pensato bene di scrivere un libro e soprattutto di far capire e proprio di esternare tutto quello che per me ha dato il ciclismo che cosa mi ha insegnato, le gioie, le delusioni, le giornate straordinarie e le giornate invece che non sono state proprio belle. Mi dici una gioia e una delusione grande che ci sono in questo libro? La gioia? Il giorno che sono passato professionista perché quel giorno si è realizzato il sogno della mia vita, della mia infanzia e uno dei giorni che penso dove ho sofferto, dove ho fatto fatica anche a prendere sonno è stato forse quando, anzi sicuramente quando Vincenzo Anibali per colpa di quella terribile caduta a 11 chilometri dal traguardo non mi ha regalato una gioia olimpica.